Questa mattina i carabinieri di Caltanissetta e della Polizia di Stato hanno eseguito un'operazione antidroga su richiesta della Procura della Repubblica di Caltanissetta, nei confronti di nove soggetti a carico dei quali sono stati acquisiti gravi indizi di colpevolezza per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso, tentato omicidio, detenzione e porto d'arma. Per due degli indagati è stata disposta la custodia cautelare in carcere, per sé la misura degli arresti domiciliari, mentre uno soltanto degli indagati è stato sottoposto all'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. L'operazione trae origine da un'ampia attività investigativa condotta tra gennaio e maggio 2021 dal nucleo investigativo di Caltanissetta, con il costante coordinamento della locale Procura della Repubblica. Sono oltre 50 capi di imputazione relativa ad altrettanti episodi di spaccio di sostanza stupefacente, per lo più cocaina, ma anche crack, hashish e marijuana, che gli indagati avrebbero acquistato a Catania, Enne e Palermo per poi rivenderla nel centro urbano del capoluogo Nisseno. Nell'ambito del medesimo contesto investigativo, la Polizia di Stato, durante le indagini per fare luce su un tentato omicidio avvenuto nel giugno 2021, episodio in cui la vittima ha riportato lesioni personali gravi, ha accertato che l'armosata sarebbe stata procurata all'autore del tentato omicidio da altri due indagati. Così questa mattina, sin dalle prime luci dell'alba, Polizia di Stato e Carabinieri, in totale sinergia fra loro e coordinati dalla Procura della Repubblica di Caltanissetta, hanno dato esecuzione all'ordinanza di misura cautelare. I militari dell'arma hanno operato in territorio Nisseno raggiungendo tutti i destinatari della misura, mentre la Polizia di Stato, grazie alla collaborazione della squadra mobile di Bolzano, ha operato in Trentino Alto Adige per la cattura dell'indagato per il reato di tentato omicidio. Contestualmente è stato eseguito in Belgio un mandato di arresto europeo, emesso dall'autorità giudiziaria di Caltanissetta nei confronti di uno degli indagati che durante le indagini si era trasferito in Belgio.